Ben ritrovati con l'informazione, questo è il telegiornale di BioBlu24, oggi venerdì 12 giugno, con me la collega Virginia Camerieri. Ciao Virginia. Ciao Emanuele, apriamo questa edizione del TG con una notizia che riguarda la task force di governo contro le fake news, task force guidata dal sottosegretario all'editoria Andrea Martella, che ha redatto insieme ai suoi membri un documento di 12 pagine. 12 pagine nelle quali si dettano le linee guide da seguire per combattere la disinformazione online, viene addirittura creato un sito web istituzionale, si legge dedicato alle fake news e alla promozione della cultura scientifica in tema Covid. Ci verrebbe da chiedere qual è questa cultura scientifica, visto che comunque non esiste una voce univoca. Cerchiamo però di capire nel dettaglio questo documento di cosa ci parla e lo facciamo in questo servizio. La task force governativa contro le fake news dopo due mesi di attività ha partorito un documento di 12 pagine contenente il programma operativo contro la disinformazione online, programma da attuare nel breve periodo e che potrà modificarsi in funzione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica nel paese. Ma anche se diversi esperti hanno dichiarato che in Italia il virus sia ormai morto clinicamente, la task force sopravvive all'emergenza stessa. Si legge nel documento monitorare le informazioni online individuando le notizie che circolano di più e quelle che diventano oggetto di dibattito pubblico, con l'obiettivo di orientare in maniera più efficace i messaggi provenienti dalle istituzioni. Si fa anche riferimento alla creazione di un sito web istituzionale dedicato alle fake news e alla promozione della cultura scientifica in tema covid. Una cultura scientifica che finora non ha mai sentito pareri univoci, ma contraddittori. Dunque, di quale cultura parla la Commissione? Si badi bene, le fake news sono una cosa seria e vanno combattute. Ma come e da chi? Il nostro ordinamento punisce chi diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, articolo 656 del Codice Penale. Per tutte le altre considerate esagerate o tendenziose, vige l'ombrello dell'articolo 21 della Costituzione. Le informazioni diramate da Palazzo Chigi, accreditate dalla RAI e dalle maggiori emittenti TV, sono state spesso confuse e contraddittorie, spiega l'avvocato Andrea Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della Fondazione Inaudi, e prosegue. È semplice ed umano sbagliare, ma un governo che inciampa in tali errori come può pretendere di stabilire quale informazione sia vera e quale da censurare? Ebbene, conclude l'avvocato, questo governo è forse il meno attrezzato ed il meno autorevole per poter istituire una simile commissione. Adesso vi voglio far sentire che cosa ne pensa il premio Nobel per la medicina nel 2011, Bruce Butler, sulla possibile ondata, una nuova ondata del virus in autunno. Nessuna seconda ondata in autunno non ci sarà e comunque la popolazione non è più così vulnerabile. A dirlo è il premio Nobel per la medicina 2011, Bruce Butler, convinto però che la nostra quotidianità rimarrà certamente più scomoda di prima. Butler torna ancora sulla questione asintomatici. Possono trasmettere il virus, anche se certamente sono meno infettivi dei sintomatici. Tesi questa in contrasto con quanto espresso da una dottoressa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nei giorni scorsi aveva invece definito rara la possibilità di contagio da parte degli asintomatici. Perché nonostante questa malattia abbia di fatto bloccato il mondo intero, nonostante a studiare ci siano team di scienziati di ogni paese, ancora troppe domande rimangono senza risposta, mentre troppe risposte cancellano le certezze, in realtà poche, che a fatica si sono costruite. E se qualcuno prova ad uscire fuori dal coro, deve sopportare critiche spesso pesantissime da parte di quella scienza unica, così la chiamano, che in realtà una vera linea non ce l'ha. Come è accaduto ad un altro premio Nobel per la medicina, il francese Luc Montagnier, quando alcune settimane fa sostenne che questo virus non si era sviluppato in maniera naturale, ma che fosse sfuggito dai laboratori. Pura fantasia, secondo molti altri medici e scienziati, che ci misero poco a screditare Montagnier, quello che nel 1983 scoprì il virus dell'HIV, premiato con il Nobel nel 2008, ma ai tempi ancora non aveva osato dire tanto. Avete sentito Boatler, che è immunologo, non crede che ci possa essere una nuova ondata di questo virus in autunno, però allo stesso tempo non è d'accordo con l'idea sulla questione che gli asintomatici possano non trasmettere il virus, che questa situazione sia rara, come l'ha definita l'OMS da poco, dalle parole di una dottoressa rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Beh, che d'altronde l'OMS abbia cambiato indirizzo più volte, lo abbiamo visto proprio negli ultimi giorni, dalla questione degli asintomatici, si è parlato anche dell'utilizzo dei guanti. E proprio l'OMS, sappiamo, determina poi comunque con le sue politiche, ovviamente, quelle che sono le scelte di molti governi. In Brasile, ad esempio, il presidente Bolsonaro sembra non allinearsi alla scelta, che ormai tutti i paesi coinvolti hanno fatto, del lockdown. Tutta questa situazione, unita anche a problemi che riguardano lo stesso Bolsonaro, sta creando delle tensioni interne, tensioni interne con l'ultradestra che spinge perché in qualche modo si possa avere addirittura una sorta di deriva autoritaria. Allora, cerchiamo di capire meglio tutto questo nel servizio di Edoardo Gagliarte. In Brasile non cessano i problemi per il presidente Jair Bolsonaro. Per quello che viene chiamato il Trump brasiliano, la crisi era già scoppiata nelle scorse settimane, a causa della gestione governativa della pandemia. Mentre i governatori di San Paolo e Rio de Janeiro facevano pressione per il lockdown, Bolsonaro minimizzava le misure di sicurezza e invitava alla riapertura delle attività commerciali. Oggi una nuova bufera si abbatte sul presidente. Secondo il New York Times, Bolsonaro e alcune frange della destra radicale starebbero spingendo per una soluzione militare. Un eventuale colpo di Stato e la presa del potere da parte dei militari permetterebbe al presidente brasiliano di aggirare la crisi e rinsaldare il controllo sul governo del paese. Riguardo il colpo di Stato, il figlio di Bolsonaro, Edoardo, ha confessato ad un blogger brasiliano. Non è più questione di sé, ma di quando accadrà. L'atteggiamento di Bolsonaro nei confronti dell'esercito è noto. Sempre il New York Times riporta che il presidente ha affidato 2.900 incarichi amministrativi a membri delle forze armate, oltre a non aver tagliato le pensioni dell'esercito. Nei mesi scorsi la Corte Suprema brasiliana aveva avviato un'inchiesta sul presidente. A questo proposito l'ex generale Augusto Heleno ha dichiarato che un passo del genere da parte della Corte avrebbe provocato conseguenze imprevedibili per la stabilità del paese. Il Brasile ha già conosciuto un governo militare dal 1964 al 1985, in quella che viene chiamata la Quinta Repubblica Brasiliana. Per chiudere il capitolo Brasile vi faccio vedere le ultime dichiarazioni del presidente Bolsonaro. Questo articolo sfrutta la confusione sui asintomatici per dire che le misure di contenimento sono più dannose del virus. Poi poco più sotto si legge che il presidente del Brasile, il paese, che è diventato un vero e proprio nuovo focolaio del contagio, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto controverse. La possibilità della trasmissione del virus da parte degli asintomatici, ha detto Bolsonaro, sono prossime allo zero. Secondo l'OMS non c'è una prova, ma noi lo sappiamo ed è un elemento importante, perché tutte le osservazioni fatte dall'OMS arrivano a questo. Le conseguenze delle misure, poi prosegue, adottate per combattere il virus, possono essere più dannose del virus stesso. A proposito di queste misure, vi faccio vedere un'altra notizia che in questo caso riguarda l'Italia, e in particolare la regione Abruzzo, che dice che si potrà giocare a basket e beach volley, ma solo con i guanti, utilizzando quindi i guanti monouso. Una decisione che è stata presa dall'ultima ordinanza, con tanto di protocollo allegato dalla regione, sulla riapertura riguardante la riapertura dei centri sportivi. Chi vorrà praticare questa disciplina all'aperto dovrà munirsi dei guanti monouso e giocare con i guanti. Una norma già definita da subito paradossale. Sì, Virginia, perché d'altronde vediamo come queste misure non solo cambiano la nostra quotidianità, ma anche il nostro modo di divertirci e di svagarci. Quanto siano davvero efficaci queste misure, tutto il sistema messo in atto, il lockdown, se lo chiedono medici, scienziati, se lo chiediamo un po' tutti, se lo chiede anche il giornalista della TV americana Fox News, Tucker Carlson. Lo ascoltiamo. But we do think it's worth for a minute taking a pause to assess whether or not they were in fact lying to us about the coronavirus and our response to it. And the short answer is this, yes, they were definitely lying. As a matter of public health, we can say conclusively the lockdowns were not necessary. In fact, we can prove that. And here's the most powerful evidence. States that never locked down at all, states where people were allowed to live like Americans and not cower indoors alone, in the end turned out no worse than states that had mandatory quarantines. Ecco, come vedete, tanti dubbi, molte domande, se li fanno anche oltro oceano. Questa era appunto Fox News negli Stati Uniti. D'altronde, noi qui a Bio Blue cerchiamo sempre di proporre comunque anche dei punti di vista diversi. Allora, ritorniamo in Italia con questa notizia di un maxi risarcimento per un vaccino non richiesto. Pistoia doveva fare il vaccino contro il tetano, solo quello. La prescrizione gli era stata fatta dal medico del lavoro. L'antitetanica era infatti una precisa richiesta del datore di lavoro. Ma quando si recò all'ambulatorio dell'ASL di Pistoia per eseguire la vaccinazione, l'infermiera lo sottopose a un vaccino combinato che prevedeva anche l'antidifterica e per il quale il giovane che doveva fare soltanto l'antitetanica non aveva ricevuto la necessaria informativa ne prestò quindi il proprio consenso informato. Poco più avanti scopriamo che cosa ha stabilito la sentenza. Ha accolto la domanda risarcitoria condannando l'ASL al pagamento di oltre 160 mila euro, quale danno non patrimoniale e altre somme. Per quale motivo? Perché dopo la vaccinazione l'uomo fu colto subito da febbri alte e fu ricoverato all'ospedale con una progressiva perdita di funzioni fino all'impossibilità di lavorare. Da qui la richiesta all'ASL di un risarcimento di tutti i danni provocati. E' interessante sentire poi la risposta alla giustificazione dell'infermiera e dell'azienda sanitaria. Hanno sostenuto che quel vaccino era consigliato dal calendario regionale in conformità al piano vaccinale nazionale. Ciò significa, scrive il giudice, che il vaccino in questione non era obbligatorio e che dunque, essendosi in presenza di trattamento sanitario non obbligato, era imprescindibile la preventiva acquisizione del consenso da parte del soggetto.